Si sente spesso dire che in Italia mancano i laureati STEM in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, eppure non bisogna sottovalutare gli strumenti che fornisce lo studio della filosofia e l'educazione al pensiero critico. L'esempio viene da Rati, che ha promosso a Lanciano, nell'aula magna della Curia Arcivescovile, un laboratorio con gli studenti del liceo linguistico di Tittafermi, a lezione dal professor Francesco Piro, ordinario di storia della filosofia e filosofia teoretica, presso l'Università degli Studi di Salerno. La filosofia perché serve appunto per sviluppare il pensiero critico, che in questo caso è anche la capacità di riorganizzare gli strumenti che abbiamo per porci nuovi problemi e affrontare nuovi problemi. Io credo che in ogni unità di ricerca, anche di materie che possono essere fisico-matematiche, ingegneristiche, ci voglia qualcuno che riflette su come si devono, ecco, come si deve riorganizzare la propria mente e i propri concetti di fondo per affrontare nuovi problemi. Questa carica di innovazione concettuale e di rifacimento dell'architettura concettuale, se mi permette questo termine, è un'opera filosofica, la può fare un filosofo di professione, la può fare anche una persona che invece ha soltanto seguito un po' di corsi di filosofia o una persona che legge filosofia per propria vocazione, ma secondo me deve essere fatta da una persona che un po' di competenza filosofica ce l'ha. Quindi le materie STEM si dovranno sviluppare, ma io credo che l'Italia abbia comunque anche uno spazio importante per la riflessione filosofica. L'iniziativa promossa ad Arati, rete di abruzzesi per il talento e l'innovazione, in collaborazione con Società Nazionale di Beiti Italia, sezione Abruzzo e con Fondazione Ab Abruzzo. La docente del dettità fermi, Nancy Di Nardo. Effettivamente quello che intendiamo mostrare ai nostri ragazzi è che le materie di studio non sono soltanto un bel racconto pregevolissimo di idee del passato, ma soprattutto che fornisce loro una strumentazione concettuale, la capacità di problematizzare, di affrontare problemi complessi e di leggere in maniera critica effettivamente le sfide che gli altri saperi propongono ai nostri ragazzi. Quello che ci spieghiamo è che i ragazzi riescono a utilizzare anche fuori dalla nostra scuola. La biblioteca diocesana infine ha fornito spunti interessanti al dibattito con preziosi volumi storici. Ho trovato sia delle belle edizioni seicentesche di Cartesio, edizioni di Amsterdam, edizioni molto ben fatte, che furono molto importanti perché Cartesio fosse conosciuto, ah, ne fossero conosciuti gli inediti, ma poi, vabbè, c'è molto alto, per esempio ho trovato una bella edizione veneziana di Pico della Mirandola del Cinquecento, una cinquecentina, come si dice in gergo. La cinquecentina chiaramente è ancora più preziosa e interessante della seicentina. Credo che possa essere da stimolo agli studenti vedere come si studiano i libri antichi. Con i libri antichi c'è anche un po' il problema del latino, che è la lingua in cui sono scritti quasi tutti i libri antichi, ma certamente per i ragazzi vedere come li si studia e perché li si studia può essere molto stimolante.